Ok, allora come tutti gli anni in questo periodo vi proponiamo un pochino quelle che sono state le evidenze emerse dalla stagione assembleare di questa primavera, quindi del 2022, con riferimento alle aziende dell'indice Futsimib. Che cosa in particolare andremo un pochino ad approfondire in questa chiacchierata? Allora, fondamentalmente quattro temi, di cui vi diamo alcuni highlights e poi entriamo più nel dettaglio di ognuno di essi. Quindi innanzitutto, l'evoluzione dei compensi corrisposti nel 2021 rispetto all'anno precedente, dove le principali evidenze sono che abbiamo riscontrato un leggero incremento nelle retribuzioni fisse degli amministratori delegati, soprattutto nella parte media e medio alta di mercato. Allo stesso modo, un leggero incremento con riferimento agli emolumenti dei membri del Consiglio di amministrazione e, su questo ci soffermeremo un attimo, un incremento del premio erogato di breve termine rispetto al 2020 con riferimento alle performance del 2021. Poi passeremo invece a quelle che sono state le politiche retributive presentate in assemblea con riferimento all'anno 2022 e da questo punto di vista vedremo che sostanzialmente, da un punto di vista di remunerazione fissa per i ruoli di CEO, l'offerta è rimasta sostanzialmente costante. Con riferimento ai sistemi di incertulazione variabile anche, sia sul breve che sul lungo termine, con una piccola flessione o una sensibile flessione nei valori mediani dell'incentivo annuale, target, e si conferma, con riferimento alle aziende industriali, la struttura retributiva degli anni precedenti, quindi il pay mix è sostanzialmente stabile. Andremo poi a vedere se è stato confermato in che misura il trend relativo all'integrazione delle politiche di sostenibilità nell'ambito delle politiche retributive. Vedremo che trova conferma, questo trend che si era già avviato negli anni precedenti, che gli indicatori ISG sono sempre più presenti nei sistemi di incentivazione del vertice aziendale, con un focus particolare su due ambiti, che sono quelle attinenti al clima e all'ambiente e alle politiche di gestione del capitale umano, la valorizzazione del capitale umano, in particolare ai temi della DNI. Poi abbiamo voluto toglierci un po' la curiosità di vedere se ci sono state delle evoluzioni anche in termini di livello di disclosure, successivamente all'implementazione della SDD che aveva richiesto un incremento del livello di disclosure negli anni scorsi. E anche qua vediamo che c'è un sostanziale miglioramento ulteriore del livello di disclosure, dove però le aziende comprensibilmente continuano a mantenere una certa riservatezza su quelle tematiche che sono più sensibili da un punto di vista di business e di competition. Quindi entrando nel merito dei compensi corrisposti nel 2021, partiamo dal pacchetto retributivo dell'amministratore delegato. Come abbiamo anticipato, dal punto di vista di retribuzione fissa erogata nel 2021, abbiamo, qui vediamo i valori mediani, un leggero incremento, quindi passiamo da un erogato 20-20 mediano di circa 1.100.000 a 1.170.000. Anche la parte alta di mercato, quindi il terzo quartile, è lievemente aumentato, mentre la parte bassa, quindi il Q1, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Andando invece ai sistemi di incentivazione di breve termine, qui vediamo che il premio erogato, quindi a primavera 22, con riferimento alle performance dell'anno 2021, è nettamente cresciuto rispetto a quanto erogato nel 2020, ce lo aspettavamo tutti, immagino. Quindi ci attestiamo su valori mediani relativi al 2021 di circa 750.000 euro rispetto a un 470 del 2020. Certamente il 2020 è stato un anno di pandemia, in cui tante aziende hanno sofferto, alcune aziende avevano anche cancellato i piani di incentivazione annuale, ma oltre a questo, che era, come dicevo, immagino nelle attese un pochino di tutti, e vedremo poi anche coerentemente che le aziende hanno performato ovviamente meglio nel 2021 rispetto al 2020, ma quello che salta all'occhio certamente è che l'erogato 2021 non solo è più alto nel 2020, ma in realtà è il valore più alto mai erogato in termini mediani degli ultimi anni, e qua vi abbiamo riportato le statistiche a partire dal 2013. Quindi se proviamo a fare rispetto a questo ancora un passo avanti e andare a vedere come questa evoluzione dell'erogazione degli incentivi di breve termine ha trovato riscontro in termini di performance aziendale, per prima cosa vediamo un pochino il concetto del pay for performance. Quindi se guardiamo nel 2021 troviamo circa il 72% delle aziende, quindi 56 più 16, più del 70% delle aziende fuzzi hanno performato a target o sopra target in termini di scheda MBO del CEO, e soltanto una piccolissima parte, il 5%, non ha erogato incentivi di breve termine. Nel 2020 ovviamente la situazione era molto diversa, avevamo a target o sopra target il 50% delle aziende con quasi il 20% che non avevano erogato alcun premio annuale. Se proviamo a fare uno step ulteriore, abbiamo provato a mettere in relazione l'utile lordo totale generato dalle aziende del Fuzzimib, che è rappresentato dall'istogramma verde in questo grafico, con il monte bonus complessivamente erogato, rappresentato dalla linea tratteggiata. Quindi vediamo la conferma ovviamente di un livello di utile lordo cumulato nel 2021 ampiamente superiore a quello del 2020, così come superiore è il monte bonus. C'è anche da osservare che se andiamo un pochino indietro negli anni, ad esempio il 2017 e il 2018, troviamo una massa, un utile lordo cumulato a livelli analoghi rispetto a quello del 2021 in corrispondenza di monte bonus erogati sensibilmente più bassi, decisamente più bassi. Naturalmente questa, abbiamo utilizzato l'utile lordo, è una proxy naturalmente di performance, sappiamo che nelle schede dei CEU ci sono anche altri indicatori aspettativi di performance, certo è che questa rappresentazione merita sicuramente di essere così descritta e merita una riflessione. Andando avanti, passiamo ai membri del consiglio di amministrazione, quindi in particolare ci focalizziamo sulla figura di presidente. Partiamo dicendoci che nelle nostre aziende Fuzzi, nella maggior parte dei casi, troviamo un assetto di governance che prevede un presidente non esecutivo, nel 73% dei casi, e soltanto in una minoranza troviamo il presidente esecutivo. In questo caso, se vi ricordo, questo 15% rappresenta sei casi. Venendo agli emolumenti, con riferimento al presidente esecutivo, troviamo un lieve incremento, un sensibile incremento, nel livello di compensi, quindi che passano dai circa 390 dell'anno 2020 ai 470 erogati medianamente nel corso del 2021, va detto però che questo cambiamento deriva fondamentalmente da un caso che ovviamente, essendo poche le osservazioni, ha un impatto rilevante. Con riferimento ai compensi riconosciuti per i presidenti non esecutivi, sostanzialmente i compensi sono stabili, sono esattamente uguali, non è un errore, sono proprio uguali i valori mediani. Naturalmente nel corso del 2021 ci sono state delle variazioni, diciamo, individuali, in crescito e in decrescito rispetto al 2020, che però hanno portato ad una conferma di questi valori mediani. Anche con riferimento ai consiglieri d'amministrazione, rileviamo un incremento degli emolumenti, che passano da 60 mila euro del 2020 a 65 mila euro circa nel 2021, va detto che questo incremento è sostanzialmente guidato da aziende appartenenti all'industria dei financial services. Passando ai comitati endoconsigliari, vediamo, con riferimento al comitato controllo e rischi, diciamo che in generale abbiamo rilevato un incremento dei compensi dedicati ai comitati endoconsigliari, con alcune specificità che adesso vediamo. Comitato controllo e rischi, così come comitato remunerazione nomine e comitato nomine, vedono tutti un incremento, sia dei compensi dedicati al presidente, che dei compensi previsti per il membro, e in tutti i livelli di mercato, quindi sia nella parte bassa di mercato, primo quartile, mediana e terzo quartile. L'entità di questi incrementi è abbastanza variegata, un pochino più sostenuta con riferimento al comitato controllo e rischi, ma, diciamo, diversi punti percentuali anche per quello che riguarda i comitati remunerazione nomine e il comitato nomine. Il comitato remunerazione l'ho tenuto un attimo isolato perché sembra avere un andamento un pochino più ondivago, quindi c'è una sostanziale stabilità o incremento sulla parte alta di mercato per il membro e apparentemente, cioè apparentemente no, è oggettivo perché lo dicono i dati, una flessione nel volo di presidente. Però va detto che c'è stato un pochino di cambiamento di perimetro, quindi alcune aziende che l'anno scorso prevedevano separatamente comitato nomine e comitato remunerazione sono passati ad un comitato integrato e che nell'ambito di questo, diciamo, del numero delle osservazioni delle aziende che presentano il comitato remunerazione vi sono stati sia casi di rafforzamento che casi di, diciamo, fine tuning in termini di contenimento. A mio modo di vedere, il messaggio però, al netto di un pochino di appunto andamento ondivago sul comitato remunerazione, a mio parere il messaggio è che c'è certamente un rafforzamento degli monumenti previsti per la partecipazione ai comitati endoconsigliari che concretizza in questo momento la consapevolezza che era già presente da tempo circa l'importanza e l'effort richiesto nell'ambito dei lavori dei comitati endoconsigliari. Un altro focus specifico l'abbiamo fatto sul comitato sostenibilità. Come avevamo anticipato in premessa, la sostenibilità sta confermandosi e acquisendo sempre più importanza e attenzione all'interno delle aziende testimone nel fatto che nel 2021 sono aumentate le società che hanno istituito un comitato esclusivamente dedicato ai temi della sostenibilità. In termini di appunto presenza di questo tipo di comitato siamo oggi a circa un 53% di aziende dell'indice rispetto a un 40% dell'anno precedente. In termini di compensi vediamo rispetto al 2020 un rafforzamento dei compensi nella parte alta del mercato sia per il presidente che per il membro e una stabilità o una lieve flessione nella parte medio-bassa. Anche qua però mi sembra corretto specificare che questa flessione del mercato nella parte bassa è stata prodotta principalmente dalle aziende che hanno istituito nel 2021 per la prima volta questi comitati che quindi magari hanno avuto diciamo un approccio un pochino più prudenziale diciamo così però questa è una mia interpretazione. Questo per quello che riguarda diciamo la parte compensi codisposti nel 2021. Se passiamo invece alle politiche retributive proposte all'Assemblea per il 2022 sostanzialmente come anticipavo troviamo una dal punto di vista della retribuzione fissa degli amministratori delegati una sostanziale stabilità di mercato. Per quanto riguarda le offerte previste nell'ambito dei sistemi di incentivazione parliamo di offerte a target il sistema di incentivazione di lungo termine è su tutti i livelli di mercato quindi primo quartile mediano e terzo quartile sostanzialmente allineato con le offerte previste nella politica del 2021. questo vale anche per il primo quartile e il terzo quartile del sistema di incentivazione di breve termine mentre troviamo una flessione per quello che riguarda l'offerta target mediana del sistema di breve termine. Da cosa è stata prodotta? Diciamo che ci sono state delle variazioni alcune variazioni strutturali dell'offerta retributiva di alcune aziende faccio degli esempi in alcuni casi in un paio di casi è stato inserito nell'offerta retributiva un sistema di coinvestimento e differimento oppure soltanto di differimento del premio annuale questo ovviamente produce uno shift dall'offerta sul piano di breve termine al piano di lungo termine in altri casi è stato introdotto adesso è in mente un caso è stato introdotto un sistema di breve termine che non era prima previsto da politica ed è stato ridimensionato il sistema di incentivazione a lungo termine questi cambiamenti diciamo il combinato disposto di queste variazioni ha prodotto questo effetto quindi sostanziale stabilità al netto dei riferimenti mediani dell'incentivo di breve termine in termini di struttura di parchetto retributivo e qui facciamo riferimento per ovvie motivazioni che tutti che tutti ormai conosciamo alle aziende industriali quindi non ai financial services il PMX sostanzialmente si conferma analogo a quello degli anni precedenti dell'anno precedente in particolare dove un terzo circa del pacchetto complessivo degli amministratori delegati è remunerato attraverso remunerazione fissa la restante parte è collegata a performance in prevalenza 42% del pacchetto complessivo a performance di medio e lungo termine rimanendo sempre sul tema della politica e andando passando al tema della sua integrazione cioè dell'integrazione della politica di sostenibilità all'interno dei sistemi retributivi delle politiche retributive confermiamo il trend che avevamo già visto negli anni passati in ulteriore rafforzamento quindi vediamo che circa il 90% delle aziende Fuzzimib prevede degli indicatori della sfera ISG nell'ambito dei sistemi di incentivazione di breve termine in crescita l'anno scorso era il 76% anche i sistemi di lungo termine nel 73% dei casi prevedono indicatori attinenti della sfera della sostenibilità l'anno scorso erano il 53% il peso medio di questi indicatori sia nel sistema di breve termine che nei sistemi di lungo termine si attesta analogamente all'anno scorso più o meno al 20% di peso relativo un altro elemento che a mio modo di vedere rafforza queste considerazioni è rappresentato in questo schema cioè il 68% delle aziende prevede l'utilizzo di metiche ISG cioè prevede che la remunerazione dei vertici dell'azienda sia collegato a performance relativa alla sostenibilità sia con riferimento ai piani di incentivazione di breve termine che ai piani di incentivazione di lungo termine quindi il 68% l'anno scorso era il 55% circa un'altra cosa molto interessante è questa come avevamo detto in premessa le aree maggiormente rappresentate su cui c'è il maggior focus relativamente ai temi della sostenibilità sono quella afferente clima e ambiente e gestione del capitale umano con un particolare rilievo alle politiche relative della diversity equity e inclusion che ritroviamo in circa il 66% quindi in due terzi dei sistemi di incentivazione del vertice aziendale e mi sembrava particolarmente interessante mettere a confronto queste evidenze quindi quelle di sinistra 2021 e quindi quelle previste nell'ambito delle politiche del 2021 e quelle che sono state presentate per le politiche 2022 questi grafici rappresentano diciamo l'istogramma se guardiamo le politiche 2022 l'istogramma azzurdo la frequenza di rilevazione degli indicatori nell'ambito del sistema di breve termine e l'istogramma verde nell'ambito invece dei sistemi di incentivazione di lungo termine ora se guardiamo alle aree agli ambiti dell'ambiente e delle politiche di ENAI è chiaro come c'è stato dal 2021 al 2022 uno diciamo uno shift molto netto e importante tra l'utilizzo e la previsione di questi indicatori nei sistemi di breve termine uno spostamento verso una maggiore presenza di questi indicatori nei sistemi di incentivazione a lungo termine e io credo che questo sia testimonio un pochino il maggior grado di integrazione l'approccio diciamo più di medio lungo termine ai temi della sostenibilità molto probabilmente le aziende sono stanno riuscendo si stanno sentendo più confident nella individuazione di quelli che sono gli indicatori da monitorare gli obiettivi integrati anche nell'ambito delle strategie di business e si stanno probabilmente dotando anche di strumenti che consentono di gestire fenomeni e di capire di proiettare un pochino quali debbano essere i propri obiettivi su queste aree sul tema della sostenibilità in particolare della DNI mi fermo qui perché poi Valentina nell'intervento successivo ci fornirà maggiori maggiori dettagli ultima cosa che volevamo raccontarvi riguarda il livello di disclosure che abbiamo rilevato nelle relazioni sulla remunerazione di quest'anno rispetto a quello dell'anno precedente abbiamo fatto questo lavoro sia avendo riferimento alla sezione 1 delle relazioni sulla remunerazione quindi quelle che attengono agli elementi di politica retributiva e poi vedremo la sezione 2 abbiamo mappato gli elementi di cui è richiesta disclosure in termini obbligatori o di nice to have e la sintesi sostanzialmente che abbiamo rilevato in termini generali un po' su tutti gli elementi un incremento di disclosure o della qualità di disclosure con diciamo un approccio maggiormente conservativo come dicevo e comprensibilmente aggiungiamo su quelle aree che sono maggiormente sensibili da un punto di vista strategico quindi per la precisione nell'ambito della sezione 1 sugli ultimi due temi che vedete elencati quindi la disclosure dei target puntuali numerici relativi ai sistemi di incentivazione di breve e di lungo termine ex ante ovviamente stiamo dicendo in questo caso perché siamo in sezione 1 se guardiamo la sezione 2 le evidenze sono le medesime anche qua abbiamo rilevato un incremento nella qualità di disclosure con una maggiore prudenza relativamente alla disclosure dei target dei sistemi di incentivazione di breve e lungo termine ovviamente in questo caso ex post quindi quelli relativi all'anno diciamo al fiscalier attra attra Grazie a tutti